Ciao ragazzi, questo è il mio video di Scarlet Questa è la mia collezione Che fa parte di 3 team 2 Zofors, Giants e Spiral Ventures Cominciamo subito da quelli della magia Voodood Con nascia No sciamano Popfix Si trasforma in numeri Tipo in un archetto Uno Scalavero Molto raro Un mostriciottolino Uno Zofors Scambiabile Eruct Sono eructo Ignato E non ce ne è vendato Passiamo in un altro Zofors Anche questo scambiabile Un oggetto Preso nello stesso Starz & Park Di questo Yeti Cinco Cil Zab 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 Allora ragazzi, un gigante, uno squalo con i quartelli, uno life core, se non mi sono gli diamanti, scarto, un cocodrero che lancia il boomerang e una dragonessa, anche questa life core, si illumina le aree. Passiamo a quelli aria, un altro gigante, suono, che si illuminano gli spuntoni, un elavit, weird world, portobianco, un'atla che spara le cannonate d'aria, un pochettone, e un crifone, che crea degli uccellini, che rimangono in vita, poche minuti, però è sempre bello. Trinnessa, che è un altro gigante, e sono finiti, vita. solo, che comanda gli animali, life core, spedmash, che ho dei tronchi al posto delle mani, zook, che è una bazooka che fa la music, due versioni di steam healthy, steam healthy e poi, non morti, uno strusso scheletrico, S, una regina, chop chop, un goblin, spara le radate, una molla, con una chiave inglese, gigantesca, un trappanatore, che ha i trappani, non so se li vedete, tre, tre i john happy, e vedete i suoi pistoloni artigianali, robot, life core, se lo meno qui, e per esempio una pompecchina, anche questa life core, poi i trappina, però ne sono solo due, questo life core, se lo meno il fiamma, e il melaio della vita. Poi possiamo agli oggetti, un cannone, life core, un diamante, life core, un incudine, una radio, peccina, una pecora di platino, un reletto di pecora, life core, uno scudo, e infine la torre dell'orologio. Ecco, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel pollice in su, o un pollice in giù, se non vi è piaciuto. Grazie ragazzi, e al mio prossimo video.